Niki Vendola ha rotto gli indugi ma la sua decisione di candidanza e la guida del centro-sinistra di sfidare Berlusconi ha spaccato il mondo politico. Molte le critiche in realtà, pochi i commenti favorevoli, anche se un sondaggio subito lanciato da Schetti G24 lo accredita tra i potenziali elettori del centro-sinistra di un appoggio che va oltre il 60%. Le elezioni più dure arrivano ovviamente dal centro-destra. Il ministro Raffaele Fitto, ex governatore della Puglia, dice che il nostro governo è solido e governerà fino alla fine della legislatura quindi aspettiamo con ansia tre anni di esilarante dibattito nelle eterne primarie del centro-sinistra. Vendola vuole portare il suo disastro al governo. Il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano parla di spregiudicatezza. Presidente, Vendola ha una buona dose di spregiudicatezza politica che gli permette non tanto a tre anni dalla scadenza naturale del Parlamento nazionale ma a tre mesi dal voto per le regionali di confermare che ha utilizzato quella vittoria non per governare i pugliesi ma per un rilancio di se stesso. Critiche anche dall'Udc con il coordinatore pugliese Angelo Sanza che sottolinea come l'eccesso di sicurezza nel voler guidare il popolo della sinistra allontanavendola non solo da noi ma anche da larga parte della sinistra moderata. Il segretario nazionale del PSI Riccardo Nencini ha definito in tempestiva la fuga di Nichi mentre il segretario dei comunisti italiani Oliviero Di Liberto ha scritto che si tratta di una autocandidatura fastidiosa e inutile. Attacchi anche da Di Pietro, dell'IDV. È legittimo che Vendola si candidi ma solo dopo aver risolto i tanti problemi che affliggono la Puglia. Non possono bastare le fabbriche immaginarie. E va giù duro anche Marco Follini del PD. È un leader interessante, dice, ma il suo affacciarsi sulla soglia del PD presuppone un mutamento profondo del nostro carattere politico. Vendola ci sfida. In difesa di Vendola si schierano i suoi compagni di sinistra Ecologia e Libertà. Franco Giordano dice che Ferrero e Di Liberto parlano a nome di una politica vecchissima. Nichi è al contrario impegnato in un processo di rifondazione politica. Il presidente del Consiglio regionale pugliese, Franco Introna, plaude all'iniziativa. La sostengo e la condivido.